Entro il 2026 almeno mille imprese italiane dovranno aver superato i test che certificano l'abbattimento di ogni forma di gender gap sui luoghi di lavoro. Per compiere questa scelta volontaria, sostenuta dai fondi del Piano Nazionale delle Represe in Resilienza, le aziende potranno contare sul supporto fornito da Union Camere e dal sistema camerale, grazie a accordo di collaborazione stipulato con il Dipartimento delle Pari Opportunità in materia di certificazione della parità di genere. L'intesa assegna a Union Camere un ruolo chiave nell'attuazione della certificazione prevista dalla Strategia Nazionale per le Pari Opportunità 2021-2026 e dalle iniziative del PNRR ad essa collegate. Le risorse al momento previste consentiranno di fornire assistenza a un migliaio di aziende di micro, piccole e medie dimensioni. Di queste, 450 potranno avvantaggiarsi anche della copertura dei costi di certificazione. Le linee guida del sistema di certificazione della parità di genere si basano su alcuni cardini fondamentali, rispetto dei principi costituzionali di parità e uguaglianza, adozione di politiche e misure per favorire l'occupazione femminile, specie quella delle giovani donne e quella qualificata, e l'imprenditoria femminile, anche con incentivi per l'accesso al credito e al mercato e ad agevolazioni fiscali, adozione di misure che favoriscano l'effettiva parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, promozione di politica di welfare a sostegno del lavoro silenzioso di chi si dedica alla cura della famiglia.